1.6 turbo da 183 CV, erogazione coinvolgente, buona coppia ai bassi e ai medi regimi e buona lungo fino ai 6.500 giri, molto piacevole il sound, quasi corsaiolo. La tenuta di strada è molto buona, go-kart feeling viene chiamato in gergo, fulmini e gli inserimenti, col posteriore che arrotonda quanto basta per entrare veramente forte in curva. La stabilità è molto buona, reazioni decise ma mai apprensive, ben controllabili. La Mini Cooper S non tradisce le sue origini, infatti è molto secca e sulle asperità si sobbalza un po'. La sensazione però di un telaio veramente solido, con poche vibrazioni appunto. Molto piacevole da guidare, reazioni pure e prestazioni anche globali molto buone, motore spinge forte dai 2005 fino alla banda rossa. Fulmine le reazioni, è il vero DNA della Mini.